E' un appartamento normale, ben ristrutturato, confortevole, con evidenze in cui si comprende che le condizioni economiche dell'aditante erano discrete, buone, ma questo lo sapevamo, quindi arredamento ricercato, oggetti di un certo tenore, non proprio di lusso, ma di un apprezzabile livello economico. Le indagini e quindi la perquisizione, gli accertamenti sono in corso, si proseguirà prossimamente con l'evidenza di tracce biologiche, quella è la prima cosa, verificare eventuali nascondigli o intercapedini o posti dove può esserci nascosto della documentazione, ma è un lavoro che occorreranno giorni.